Non so se sono avanti nel gioco, mi considererei quasi a metà perché sinceramente non è successo molto, ho dovuto solo liberare i campi, ovvero i rippers che sono degli stronzi sadici masochisti, quando gli ammazzi dicono è stato liberato, è stato liberato, vabbè, i marauders, il gioco c'erano in inglese e ovviamente il cavolo di zombie, le order mi hanno divertito un sacco, ho incontrato due order la prima l'ho voluta proprio, ci sono andata apposta a distruggerla, l'altra mi è capitata mentre stavo assaltando una aveva un posto, che cosa ho fatto? Corso con tutta l'orda verso i nemici che hanno iniziato a spararmi non so come sono riuscito a sopravvivere, l'orda ha fatto il suo dovere, ha continuato a inseguire pure me è andata bene, poi ho incontrato una terza orda, c'era un buco, non capivo cos'era c'era un'orda, sono andato dentro, mi è finita male, l'ho scappato però mi hanno preso ma in ogni caso, tanto per capire la storia e anche esprimere i miei dubbi, infatti ho incontrato una ragazza nella missione secondaria che diceva preferisco morire anziché lavorare, ma porca ti faccio un headshot se vuoi, no? E io sono andato a salvarla, un'altra Lisa che è tutta una scioccata che ha vissuto per due anni a casa sua con tutta pandemia, zombie e questa voleva tornare a casa, è scappata da un campo perché si lavorava troppo, anche se in quel campo sembra che mi stacca, ovvero quella che discusse il campo stesso, sembra una brava signora, molto simpatica, ma è un po' esagerata nei modi, tanto che la considero una schiavista, e quella è scappata, l'ho portata in un altro campo ed è scappata di nuovo, e non si sa perché questa volta, questa volta io non l'ho capito sinceramente, quindi questa Lisa, ok, sta simpatica, è messa sul cavolo, cioè se vuoi crepare, cavolo, ma dai, ci va dire direttamente brutta di un precipito, non sono cose belle da dire, però per farvi capire anche la tizia è un po' strana, ma cercherò di capire anche cosa vuole dirmi il gioco, magari vuole comunicare alcuni sei tempi, poi ancora un'altra cosa, c'è il fratello che è stato staccato dai rippers, gli hanno distrutto un braccio praticamente, ora non si è voluto curare, è il sangue ovelenato, solo che qui secondo me il suo fratello Buser muore, perché qua come vedete c'è scritto rewards, ricompensa, il suo fucile a pompa, e lui ha detto che non si separerebbe mai da fucile a pompa, quindi mi sa che muore, cosa fare? Si potrà scegliere, non so, forse non si può salvare, non ne ho idea, non ne ho idea, ma comunque adesso ho deciso di farmi un lungo viaggio con la moto, perché faccio sempre viaggi rapidi per i viaggi lunghi, ma questa volta mi faccio un bel giro con la moto per vedere se tutto va bene, farò tappo per fare benzina, prima tappa la farò qui, e poi andrò nell'altra, perché il viaggio rapido ti fa usare la benzina appunto, e passa anche il tempo, quindi andiamo lì, il direttore mi basterebbe per andare ancora più avanti, però farò il pieno lì, riparò il pieno, anche perché ancora non c'è tutte le modifiche riguardo alla benzina, al serbatoio, ho fatto a studiarmi troppo il gioco, insomma, voglio riferirmi un po' l'atmosfera, imparare le cose che mi chiamo, prendere il combattimento, cambiare approcci, il mondo giusto, ho fatto troppo di stealth, ma vorreste di guardare, andiamo, speriamo che... Che cavolo! Speriamo che non ci sia un cavolo di cecchino, perché i cecchini qua rompono davvero, vado 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 Ciao, mi dispiace, certo, potevo attaccarti anch'io, romani, ma tu che cavolo fai che insegui uno che è con la moto? C'è stata solo una svolta nel gioco, finora, dopo che ho fatto tutti i campi, aiutare il genere, solo una svolta particolare della trama, ovvero ho scoperto che ci sono dei gruppi questi ricercatori che siano un nero, non so cos'è, un colpo paramilitare, perché hanno tutte potenziate, eccetera, eccetera, per evitare la contaminazione. Oh! Questo è un cecchino! Questo è un cecchino, cazzo, che sta sparando agli zombie, però mi becca al pubblico! Sto per arrivare alla... alla pompa di benzina, speriamo che non ci sia una zombie! Oh cazzo! Dai! Madonna, mi piace molto guidare in questo gioco, mi ha detto che la moggia! Madonna! Let's see what I can do! Bene, 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 bene! Andiamo così, di inerzia... E allora? Non avevo mai fatto la pompa, questa la santa volta che l'ho avuta, è sempre molto comodo, perché ho sempre usato le tanniche di benzina che trovo in giro, sempre che stiano infinite, non finiscono mai! Bene, prossima tappa... Prossima tappa... Andiamo lì? Perché questo tratto è più lungo... Andiamo lì, sicuramente ci sono un bel po' di zombie, magari incontrerò un cecchino schifosissimo... Ho capito che devo salvare ogni volta, perché mi è capitato che devo riparmi un interi viaggio, che non avevo salvato, quindi ogni volta che sono in moto, arrivo ad un punto... Che c'è poi? Adesso ho aggiunto pure il nitro, finalmente! Posso fare i saltoni! Oh, devo entrare in un tunnel, sicuramente che ha nessuno a rompere... Oh, tipo, devo sbattere proprio mentre mi inseguono... Ah, qui sono passato già un po' di roma... Ah, qui sono passato già un po' di roma... E' stata smontata per errore da qualcuno... Che ha ritrovato la mia moto che era... Ehm... Flanizzata... Oh, guarda, facciamo così per lui... Sì, qua non ti attaccano tranne quando sei tipo di spalle e sei distratto... Non ti ignorano... Non stai pure davanti e non fanno nulla... Sono dei bambini... Un po' di zombie, un bambino... I zombie qui non mi mettono timore come altri giochi... Tipo dai lighting qui dai... Ti senti proprio... Come il pepe al culo, ovviamente... Ti corri anche con le orme... Devo aiutare un pizzo... Devo aiutare un pizzo? Grazie... Ah... Questo qui lo mando... Lì sto mandando tutto... Allora... Non li mando da tacca, non ne ho mandato da nessuno da tacca... Perché semmo è una schiavista... Li mando tutti da Copeland perché mi... Ah, spai, Iron Max mi da 1000... E allora li mando da Iron Mike... Non li mando Hot Spring perché mi da solo 200... E nient'altro... Iron Mike... La prima che mando da Iron Mike... La prima che mando da Iron Mike... Grazie... Grazie... Ok... Dove a piedi... Oh... Ci sono dei nemici in giro... Allora... Ce li ho messo molto vicini... Ehm... Mi piace come insegnava nella mappa... Perché non... Non li vedi... Ehm... Come negli altri giochi... Oggi solo un po' la direzione... Come se sentissi un po' i rumori... No? Guardando la mappa... Allora... C'è qualcosa qui? D'accordo... C'è qualcosa... D'accordo... Allora... Poi? Allora... Squ Partner... Vabbè... C'è qualcosa di rевpore... Prendne, mui... C'è qualcosa di rinco... C'è qualcosa di rinco... Sì... 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 Ehi, non è sicuro qui nella piazza. Sì, dove c'è un camp... Sì, camp? Quale camp? Showmi, dove? Allora, gli mando sempre di Iron Mike, così aumenta un po'... Allora, in Lost Lake, chiedi per Ricky Patel, e lei ti prenderà in. E... trust. E' stato un giro. Grazie, grazie, mamma. Mi pensavo che sia finito. Grazie. 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 Sì, lasciano sapere che era Deacon St. John. Sì, continui a riuscire. Stai fuori dalla piazza. Bene. Se lo abbiamo pure. Allora, dobbiamo fare con la tappa. Perfetto. Anche se di benzina sono a posto, forse ci arriverei. L'inserbatoio è quasi vuoto. Non ci arriverei qui. Quindi... Lo voglio garantire perché... Poi di volte... I momenti sbagliati. Potevo rimanere in un momento in cui... non pregava niente, ma solo nei momenti sbagliati. Eh, vabbè. Se avessi, sono troppo incinato... C'è un vantaggio, non c'è un asima. Se avessi, non c'è un fattore. Oh, è che voglia nell'acqua. Allora, non c'è un aperto di tesi. Un fattore. No, non c'è un fattore. Eccolo, non c'è un fattore. Oh, stanno ammazzando E dai, eh C'è ancora qualcun altro Solo là che non è morto Ma non è morto Devo fare solo benzina, ragazzi Devo che ci sono prendo anche qualcosa In granaggio, vediamo Perfetto Non servivano troppo, soffitto Ora Devo fare solo benzina, porca miseria Perfetto Non c'è a piovere, sono nemici piovanti Allora, salviamo Perfetto, che ore sono? A tre di pomeriggio Non voglio andare di notte Non è un gran problema Stare di notte Perché voglio evitare Non mi sembra che ci siano più zombi Che altri Che molti di giorno stanno nei nidi Che li possono andare a distruggere O nelle grogge O una casa che sbarca Sia sera E' un'altra di quelle missioni in cui devo svuotare un avamposto Però qua devo anche rubare degli antibiotici Ho fatto una bomba di benzina? No, per capire eh Perché non me la segna nella malta Funziona? Sì, funziona Allora, perché non me la segna Allora me la segna Qui non c'è nulla A me non mi resta Non posso finire Qui ci sono molti edifici da scuovare Non lo farò Adesso dentro i termini Se non ha più senso perché ce ne erano di meno Non si può entrare in tutti i stili Allora, non credo che c'è nulla Questa tecnica che non segue, no? Sì, dopo una cosa è arrivata Manuala Chia Ma ho visto che stanno qui ci sono queste piante a servire Cloudberry, non l'avevo mai trovato? ho sblocato la spilla che mi fa vedere le piante nella mappa almeno per le piante allora tanto salvo qui perché non sembra un entrata con una specie di cittadina accanto si potrebbe essere qualcuno si sta anche facendo notte ma tanto devo liberare la zona giusto allora purtroppo è stata fatta schia che mi ha giusti questi pezzi a certe volte non si è venuto nulla beh mettiamo un po' qua dentro devo dire per le moto non c'è nessuno qui come mai ci fosse almeno una quindicina di stronti ma forse devo arrivare lì prima e poi mi fa partire la missione cosa che accade spesso io penso di essere arrivato lì con la missione che è appena iniziata invece non parte è proprio una missione particolare non è semplicemente andare a ammazzare tutti in un campo vediamo 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 il gioco c'ero in inglese tutto in inglese guardiamo vediamo la missione viene durante la notte ok scuso è il St. John sono a la fronte vedete alcuni dei miei amici? non scuso è chiaro guarda quanto tempo ho avuto? tempo? tempo per quanto? tutto lo che vedo è che ho un gioco di auto con alcuni dei miei amici un paio di loro potrebbero essere in attività ma sto facendo la slide se ho avuto a pensare io diria che stavamo giocare tutta la notte quindi fino alla mattina ho capito Deacon out bene devo andare con la moto devo davvero andare con la moto? se sono certo che può fare una moto ah ok bene devo raggiungere quindi era solamente un punto di incontro allora io non ho mannaggia a me penso altri silenziatori quindi non ho ho tolto la balestra che perché certe oltre ho usato la pistola silenziata o ciò prima il silenziatore ti sto un po' a disfarsi è semplicemente penso che devo potenziare la balestra ho visto che ci sono appunto le skill per questo lo usano lo usano più avanti però la dobbiamo ah questo qua è proprio una missione principale che pare non lo sappiamo sappiamo in questo punto anche se credo che ci sia già il checkpoint dicono è convinto che sua moglie è morta anche se adesso ha ricevuto delle notizie che gli stanno facendo pensare il contrario anche se non vuole convincersi del tutto che cazzo che cazzo non tenerei la luce purtroppo ci siamo gli amici non mi hanno visto? ora ha fatto rumore cazzo ha finito il il silenziatore della pistola bene 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 sto cavolo io devo fare i sassi e dai ok un tizio molto sparticolare c'è un dragliatore qua mi fanno il giro mi sa questo non crepa facilmente mi sa eh no mi sa di no aspetta questo non mi è mai capitato non c'è non c'è non c'è non c'è Eh dai! Se potete fare l'headshot per la bifala a me è molto vicino da questa distanza. Molto meglio usarla da abbastanza vicino per fare alcuni headshot. Beh, non sempre. Inventario... Inventoio... Allora... Quasi quasi la userei. Noi, ora! Ah, ma il posto che mi chiamava, eh? Questa è verba. Ah, è un altro tipo di colpi, però. Posso metterli ai ventilatori? Ma davvero? E' stato un po' qua. Allora, io ho l'idea di salvare un po' un attimo perché non potesse ammazzare. Poi devo tornare indietro e farmi tutti i settori? No. Vedete, già l'ho fatto e mi rompo. Quindi... Oh, benzina? Non so se lì posso fare il cicliano silenzioso. No, ma l'ho visto ancora. Eh, ci devo provare, però. Allora, potremmo farlo avvicinare. Sicuramente leggo altrimenti non lo posso fare. Non si muove. Poi non si muove, ragazzi. Sta fermo. I stridenti fanno vedere che succede. Eh, a me cattoletti se non si muove. Almeno che si giri. Ok. Ma come cavolo mi ha visto? Un'altra parte. Un'altra parte. eh no ragazzi non ci metto troppo ma si deve girare si deve perlomeno girare abbiamo liberato cosa riesco a farlo avvicinare eh no rimane bloccato là se esco mi vede cavo devo andare un po' più avanti mannaggia non funziona non funziona non funziona non funziona ah le molle del crepano bene bene a quanto pare non mi aveva fatto nulla 12 colpi se tornassi indietro a me potrebbe servirmi ora medical band ladies allora ok dovrebbe esserci ancora l'altra arma qu'è tu choc'è non abbiamo abbastanza allora faccio un po' di questo grande ok questa è la mia moto posso andare a prendere la moto? dai cosa si eccola qua a questo punto salvo pure qui e voglio anche vedere cosa c'è ok la posso salvo perchè mi rompa a farlo anche perchè sto dando un'occhiata ovunque anche perchè è la prima volta che faccio questo gioco quindi un po' non esploro ogni tanto perchè un po' più grave qua sopra non c'è nulla devo avvicinarmi con la moto anche se faccio un casino bestiale non so se muoveremo il piede quindi sono 200 metri però non andiamo questo è un po' di rimanere il piede di decisione questo è un po' di rimanere il piede di questo gioco questo è un po' di rimanere il piede di scendere qua dovrebbe essere qualcuno ah dovevo andare a cercare un aereo che si era spiantato a quanto pare c'è un motore di aereo oh ma che cavolo ragazzi ma dai c'è pure un cecchino oddio ma ma è quel tizio potenziato allora la moto aveva funzionato con lui vediamo se rifunzione il cecchino ancora non mi ha puntato e non ho il fucile di precisione bene non è quello potenziato eh quello potenziato è molto importante è molto importante è molto importante non c'è non ci credo è spostato alla fine allora è spostato alla fine è sprecato la ora hai rotto eh non smettila di sparare ma non si sta crepando la vita non li è diminuiti ora credo hai due molotov allora quello non si è accorto di nulla sembra quello che ci si chiama vabbè io vado a piedi un'altra molotov direi di salvare anche ora visto che sono c'è un cavolo di cecchino lì e spero che non rompe non ci sono passato davanti quindi perfetto questa è una strada che mi ha permesso di evitarlo no cosa è successo sono uscito dalla zona della missione ma che significa? ma è rimasto abbastanza in tasca allora bene bene un nuovo tipo di mostro è la prima volta che finalmente mi capita un nuovo granito un boss finalmente non mi era mai capitato allora sicuramente devo saldeggiare questi esplosivi allora ci ne diretti a impedire solo per ora no ma non è da niente sono munizioni ah la dovevo marcare diamine ora li buttano una granata ah che cavolo pensavo che aveva ha avuto la granata no proprio non si è accorto di nulla buon per me finché non mi vede bene vediamo se lo posso lasciarlo qui eh l'ho fatto abbastanza male allora io utilizzo non sciogliavo la pietra non funziona non si muove quella pietra allora non c'è qua d'oltre parte che non mi vede se rimane fermo benissimo non c'è qua d'oltre parte che non si muove si è buggato eh però mi finiranno le moto infatti allora non ho più esplosivi diamine allora se lo ripariamo madonna mia allora cosa mi manca una bottiglia di birra allora togliamo come dobbiamo usare questo ho tanti colpi no ma dai no ma dai te l'ho fatta la difficile la sarebbe stata molto difficile probabilmente il giocatore di questo gioco è normale perché ho pensato che fosse complicato però me l'ha sentato bene normale quindi forse potevo giocare tranquillamente a difficile ok antibiotici se la moto è lontano non mi piace devo ripassare dove c'è quel cecchino strappato è stato di nuovo ma intanto questo rimane nella mia moto è stato di nuovo perciò e poi perciò andiamo fuori da qui andiamo fuori da qui andiamo fuori da qui andiamo fuori da qui come ha detto Sì, questo è Deke, stai bruciando, non lo sento ancora. Deke, dove sei? Scusate Ricky, non ho tempo per questo ora. Mi ha salvato il culo, se non avessi avuto quell'arma ci avrei avuto più difficoltà. Gli antipiallici non scaduti per anni sono passati dall'ipotetico schianto. Gli antipiallici non si vedi. Scusate, è Deke. Sì, sotto loro! Si! Si! Si, s'è la strada, sicuramente non arriva. Ora! Si, si! Si, si! Si! Si, si! Si, si! Cosa c'è da qui? Cosa c'è da qui? Hei, ho sentito una scuola, cosa succedi? Abbiamo avuto un po' di ripi. Ma l'ho affrontato. L'ho affrontato? Cosa? Come? Cosa? Cosa? Cosa, Ricci, chi c'è la sicurezza? Sai, ho chiesto di questa cosa ogni giorno. Ecco qui. Bene. Cosa ti faccio qui? Cosa ti faccio, Dick? Addy mi diceva di venire e portarti. Cosa? Guarda un secondo, è Boozer ok? Non lo so, dobbiamo andare. E' rimasto che Boozer si stava davvero male. Forse crepa. Mi sa che... 82% All'altro lo so è che Addy mi diceva di trovarti. Quando ho chiesto, ho trovato che tu e Skizzo stavamo qui. Ora vedo perché. Non lo so, che tu parli. La città? La città? La città? La città? Non è un grande segretto, Dick. Iron Mike negocchiava con Carlos, facendo un concetto per il nostro campone lo spedare con i Rippers. Cosa è vero? Non è vero. Cosa è vero? 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 Ah, sì, bravo. Quindi adesso ti chiami di Schizzo's errand boy? No? E come hai capito? Un'azionista a Copeland's camp. Come hai detto, non è un grande segretario. Sì, certo. Schizzo's been trying to pick a fight con i Rippers for months. Credo che è successo che hai venuto per farlo per lui. No, 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 no. Non ci chiamo di fare con i Schizzo. No, ecco è successo. Non ci chiamo di capire con i Rippers fori. Ma come su con Tucker? La stessa cosa di per lui? No, 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 no. Do you ever think when you roll up on someone starving out in the shit, maybe hasn't slept in days, reach the point where they stop running from men like you? Do you ever think they don't have a choice? But you took them to the hot springs just to say, earn a few camp credits. Everybody's got a choice, Deacon. E' molto importante portare qualcuno che non può lavorare, che non può ottenere il suo lavoro Sai, sei solo felice che Iron Mike non è come te C'è una grave situazione, però molti non vogliono fare nulla E visto che... Se trovi un problema, però... Amputazione Ok, magari non muero Ma non vuole perdere il braccio perché è un motociclista, penso no? Potevo non amputare Questo è quello che avevo pensato fin dall'inizio, proprio di stare con me Ok, ok, ok Niente anestesia, eh? Ah, mi sembra che schizzo Un punto di svolta, ho capito Allora avevo ragionato, cioè avevo pensato che potesse morire, ce l'avevo detto in un'altra live in cui ho fatto il telefono, però ho pensato che potesse morire o perdere il braccio Sicuramente... È che il braccio sembrava essere migliorato, non aveva più quelle ferite Beh, magari posso essere un ingegnista, o devo essere un surgeon Mi sembra che fosse un surgeon Ho pensato che dovessero essere un surgeon E tu? Sì, sì, è ok. Svegli che hai salvato la vita di un amico oggi? Sì, non credo che lo vedrà così. Sì, credo che lo vedrai. Ho dovuto andare a dargli l'I.V. E sai cosa? Non so dove hai fatto tutto questo, e non voglio sapere. Ma sarà salvato molti livesi, Deacon St. John. Molti livesi. Bene, bene. Cosa è successo adesso? Sì, non voleva che andassi in un crash site. Non lo so. Ma il Ripper saw you, followed you back. Quando Carlos finds out about this, there's gonna be the devil to pay. Carlos can go fuck himself! You are writing checks with other men's blood! I hope you're good with that. I don't know what had to be done. Mike, wait up! Mah! Wait up! Bene. Ancora non è finita qui. Bene. Devo giusto andare a una cosa nei settings. Per dire il vero non so se il microfono mi sente bene. Microphone... Ok. No, funziona, funziona. Benissimo. Adesso cosa si deve fare? Che ancora non ho capito com'è finita quella situazione con nero. Ok. A quanto pare c'è qualcos'altro qui. Neurofield research team. Trackdown. Questi qua non li posso uccidere. Questi quasi vado a farmi questi niti invece. Si libera un po' la strada. Eh... Oppure no. È che sono molto vicino. Quasi quasi ci vado. Sì sì. Allora, sono le 5 pomeriggio quindi vado a dormire. Ehm... Ma dove aspetta? Magari con la moto... Dov'è la mia moto? Intanto... Pensiamo a un paio di robe. Hello. Just one. Breaker. Bleacher. One. Ok. One. Eh. Ah. That's all. Hey. 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 How's it going? Someone killed a deer. Brought us the carcass. It's amazing. I got all kinds of stuff. Allora. Queste sono altre armi. Quanta cazzo devi so... Ma vabbè. In ogni avamposo... Ogni... Luogo ci sono... Cioè, in ogni mercante sono armi diverse. Ah, ma hai visto che ce l'ho? Ah, no. Lo posso comprare? Cosa? Ma io me lo compro. C'è un altro fucile di precisione. Poi lo era l'hollo 2. Questo qua è uno. Prendiamo soldi. Prendiamo soldi. Guy who sold me that. Said it was good. Supplies. Ok. Sì. Questo sicuramente. Invento il fucile. Sì. That's nice. Perfetto. Ora io cambio l'arma. Allora. Allora. Ah. Però questo... Potrebbe essere un po' meglio. Vabbè. Intanto ce lo teniamo. No. Primaria. Pugina a pompa. Anche se... Che dovrò usare questo. Dai. Questo che l'ho appena comprato Perfetto Andiamo Benissimo Dai, doveviamo in me il meccanico? Sono molto vicino Ah, ma la benzina ce l'ho Ma vabbè Adesso andiamo a dormire Performance, ci sono altre cose Ok, ho fatto tutto Aspetta, ma Trust Level, ma a che punto sono col Trust Level? Allora, ho detto al massimo per ora Allora, ho capito Ok Later, Deke Hey, come la vita? Perfetto Passaggio qui Oh, I'm just gonna close my eyes for a bit Allora Andiamo a liberare quella zona dai nivi Allora Ok Ok Let's go Bene Bene Buongiorno Se non piove Ma vediamo Allora Allora Andiamo qui Allora Andiamo qui Allora Spero siano solo 4 Se no devo mettermi a cercare gli altri Non so Non so Non so Non so Non so Non mi ricordo Solitamente devo andarmeli a cercare Poi una volta che li hai trovati Te li fa vedere nella mappa in quel momento Allora Allora Intanto Salvo adesso Sono alle 7 e 15 di me del mattino Bene Si è selezionato Perfetto Come andiamo a andare in quel momento Lost lake to Deacon St. John Are you there? Uh, yeah, Ricky, what's up? Iron Mike says you volunteered to stick around Do some runs for the camp But that you refused to work for Schizo Yeah, something like that Well, I can't say I blame you Ok, mamma, credo che mi sono attaccato con te. No, stop by the mechanic shop, e abbiamo un lavoro per te. Ah, non mi chiede prima che rulli i cavoli. Ok, ok, Dick and out. Addy, sei tu? Dick and St. John to Lost Lake in Ferbri. Come back. Dick? Hey. Nothing. I'm feeling a lot of it, you know. You ok? What's going on? Boozer. Hey. Uh, nothing. I, uh... Got tired of listening to the radio free organ. Can only take so much of his truth or bullshit. I know. Dick, uh... Addy told me how I'd be dead if it weren't for you. Getting the N.I., whatever the fuck's... Boozer, I, uh... Hey, must have been fun. Pulled me down while she fucking whacked the way of me. Remember how, uh... Jack carved up that turkey last time we was all together? I... You can't sleep all over the goddamn table? Yeah, Boozman. I remember. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. It's gotta be getting close. Hold me down. I don't know what would have happened, Nick. I don't know. Well, it's done, Boozer. It's done, it's over. Uh, Nick, uh, sorry I'm feeling, feeling a little boozy. Watch out. Yeah, but, uh... Hey, Addie's gonna kill me if she finds out you had a bad fucking around. Yeah, I've... You're a bunk... Uh, call my name. Lost Lake's on the off. You're a bunk calling my name. Listen, Boozer... Oh, shit. All right, let me throw the trash... See if I can find the bottles... What do I need for the money? Bottle of beer, always. I didn't? Non mi mancano. Tire di birra vuote. Non mi posso arrampicare. Ma arriva l'altra volta dentro. Allora, sembra che... Deacon, sei qui? Sì, Ricky, cosa succede? Solo volevo dire... Scusate... 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 Addy voleva sapere, se non ti compreste la lista di knif, Buzer... ...il più dolor. Sì, ma è più facile per te farlo. In ogni caso, io... ... speriamo che... ...il è mio amico, sai? Hey, ascolti... ... grazie per avercibito. andiamo in, freddo devo andare, Deacon fuori un paio di cose dai però una bottiglia proprio tutta questa roba che non mi serve adesso ah ecco porco cane solo una ma devo farmi combattimento faccia a faccia con quelli che escono ultima volta che l'ho detto ne sono usciti più del previsto allora è finita male cioè non è finita male però ho dovuto scappare sono usciti troppi ovunque da sopra aspera roba qua bende e risaliamo, usciamo da qui andiamo a buttare questa molotov nei nostri cari amici ovviamente devo ritrovare un'altra bottiglia penso e anche del kerosene una pianta bisogna beh beh qui a dentro c'è qualcosa magari c'è il robot che ho appunto per guciare solitamente si trovano devo finire questa zona infestazione non c'è un cavo ah così proviamo quest'arma pure guarda che coppia eh che dirvi di quelli che avevo con con la cappa buongiorno 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 ah qui serviva la bomba magari inizio 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 ah ciao belli ma si può entrare almeno dai per luttare della roba e invece questa volta no ho messo troppo per un per un nido ah non ci vuole non ci stesse accendendo ma che cavolo allora 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 però quante ce ne sono? ah quattro perfetto quindi se ce le vedo tutte fermiamo ecco ce ne sono due e devo trovare delle bottiglie però intanto vado lì anzi devo vedere che c'è per me che trovo un'altra roba non so che la situazione non mi pare non so ci sono dei lupacchiotti che vogliono rompermi ci sono dei lupacchiotti che vogliono rompermi ci sono dei lupacchiotti che vogliono rompermi ah poveri lupetti nooo ah c'è l'animazione quindi ah 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 ma dai è morto così pensavo così ah bello ah 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 perfetto allora io devo andare questa roba qui anche per vedere se riuscivo a trovare qualcuno qualcuno che ci sono delle bottiglie di birra vuote per fare le molotov c'è parecchia roba qui tranne quello che mi serve bene non c'è che mi serve ogni giorno ah funghi pure i funghi ci sono qui non c'è nulla quindi nulla no perché il rosè mi serve ma mi serve anche una bottiglia non c'è se almeno due molotov le posso fare se trovo due bottiglie macchine totalmente inutili ma non lo devo fare niente nessuna bottiglia come dovrei fare come dovrei fare questa roba ok torniamo alla moto torniamo alla moto andiamo a vedere come è la situazione magari ci sono altri zombie fuori dal nido quindi mi sono messo la benzina ok allora allora sappiamo che ha ripulito il posto non è l'ho controllato bene ma sembrava esserci molto ecco di qui allora nest deve essere qui un po' fastidiosi io proverei a tirare la granata però non credo funzioni ah c'è un altro per uscire almeno sono tre parti questo non sono così due che non mi hanno visto eh? non è possibile che non mi hanno visto da qua? ah ma c'è l'altro nido qua ma dove è? maledizione un altro nest let's go non cercherò questa bottiglia di birra ma cercherò questa bottiglia di birra? ciao bello un altro M.M.U. mi chiedo che Nero ci resta dietro questa volta ah scadola di chiodi ah guarda c'è quindi dai dovrei trovare qualcosa allora pensiamo agli altoparlanti che rompono prima perchè ci sono degli altoparlanti che si attivano appena attivo il generatore qui e vengono tutti quanti quindi dai devo stare da sopra per farlo posso rispararli anche qua per farle semplicemente questa cosa l'ho scoperta solo dopo ma non posso nonpire i poveri corbetti sembra che lo siano allora poi ce ne sono solo due certe volte ce ne sono più di una e non neanche per niente ecco il generatore mi servirebbe la benzina ma dov'è? cosa? allora un altro nest però a me serve a me serve una bottiglia di birra una anzi due dico tre perchè devo appunto sorgere questi nudi maledizione ma ci devo tornare dopo per forza e non ho trovato nemmeno la benzina ancora per il generatore cosa? devo scavalcare? no ma dai sono rimasto bloccato qui ah ok però dovevo quel generatore lì non scendere fare di nuovo il giro qui non c'è nulla nemmeno ah bottiglia dai bottiglia siiii posso fare una mo cosa sta facendo adesso cosa? ma c'è gente ma dove sono arrivati? quella è un po' bloccata eh non capisco molto dove andare questi qui non capisco bene bene carosene mi serve un'altra ma no intanto butto questa moto ai ragazzoni altri altoparlanti qui si va? si prosegue? ok allora dov'è? non capisco non capisco non capisco non capisco non capisco ma dov'è? non capisco non capisco non capisco non capisco ma dov'è? non capisco non capisco non capisco non capisco non capisco ok, andiamo a guardare la vibra finalmente, jesus le impronte vanno dentro eh ragazzi, ah c'è una porta no, ragazzi, non trovo la tanica di benzina mannaggia verserà dentro? ah intanto, ah non mi direi che manca il fusibile oh red, cosa abbiamo? oh, dove vado a prendere un fusibile? bene, devo mettermi a cercarlo in giro aspetta che c'è qualcosa dai non ho trovato la tanica di benzina ma non doveva essere qui, avremo un po' il troppo qui è una cosa di genere è sfusibile, ah, si può salire per trovare qualcosa? no, non ho trovato nulla ah, sto facciando cosa ho trovato? niente che mi possa servire per quella roba lì, però vabbè o magari è l'ipsatec che mi serve e niente c'è una bottiglia, non l'avevo vista ah, ci sono delle amiconte pure qui ah, ecco visto che siamo qui risultiamo i cari amichi 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 devo dire che l'ho fallita aspetta aspetta ma non so se ci ho messo un bel po' non c'è qualcuno dietro? no ma non riescono ad uscire non c'è si è tipo bene ah, ok devo vedere che lo trovo qui perfetto cos'è? no no non tocca un cazzo aspetta dimmi che qui, ecco dovrebbe essere questo nero fuse sembra nerd fuse allora dovrebbero essere tutti scollegati gli altoparlanti giusto? no dai sicuramente ne manca qualcuno eh, però non trovo la tanica di benzina a meno che ci sia eh, ora siamo in negozio ah, dovrebbe farlo tanica di benzina, dove? qui non c'è giusto oh, qua ce l'ho al massimo un veicolo oh tanica di benzina, bene, dove? non posso salire da qui ormai vabbè un vento non c'è benzina ok, vediamo che non c'è benzina sì, ovviamente non c'è il corpo è fuori ma il corpo è fuori ma non c'è questo corpo che sta succedendo? ma ma le pare il modo di volare? ah ok, capito capito, capito eh, mi scusi non vuole una mano cioè questo corpo si è incastrato oh ma tipo io non cioè ma dai, veramente non li posso vediamo cosa mi da che bel modo di cacciare mi dovete scusare mi dovete scusare visto che vi siete catturati da soli bello ci si compenetra allora benzina benzina dove sarà? carico il controller oh c'è gente con la moto vediamo 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 qui se si trova una tannica di benzina nei dintorni anche perchè non la posso caricare in moto oh guarda magari la trovo con un po' buona non è la scopietta non è la scopietta non è la scopietta avvicinò la moto a questo punto una tanica di benzina ah guarda che è lì adesso ovviamente sono vicino ai camion però qui non c'è nulla nulla di nulla di nulla di nulla zero eh un po' mi stanno girando perchè diamine solitamente c'è una diamine di tanica di benzina ma non qui a quanto pare ma perchè qui sento battere qualcosa ma vabbè c'è altra gente in moto ha visto qualcosa? ma ha preferito andarsene ragazzi non ci siamo però eh non ci siamo non so se me ne vado e torno un'altra volta ehm dov'essere qui da tre ore solo per cercare una tanica altrimenti non rendono la bottiglia ah guarda ma mi schoons mi direi mi fa uscire eh ok mi hanno messo munizioni ci ho messo una macchina ok munizioni ehm basta in secondaria cose guarda ahhh non dai magari fa una macchina che spieghi a caso ma non posso avviare nulla dai però e poi è disappointing un altro corso allora scendendo di qua ok sono sicuro che sia lì c'è un cavolo di camion ribaltato invece no non c'è un cavolo la tannica dovrebbe essere caduta no siamo al corsello non è che è caduta eh è strato sta facendo il giro non ho capito dai mi lascerei una mina no ma dai ma non c'è nulla qui satanica proprio non si trova io qualsiasi me ne vado ci torno un'altra volta ma perché ci sono tutti questi maledizione non c'era nessuno prima questo è un altro di quei brutti posti andiamo a vedere l'occhiata e c'è un bel salto poi anzi ah ovviamente non c'era nessuno no non c'era nessuno non c'era nessuno non c'era nessuno ma che è un punto ok sta là nessuno una bella horda ok invece no 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 ok dovrebbe ricaricare cos'è un vulcano per la montagna? sull'anello sulla destra doveva la moglie la decon o'briana come andita your friends are here o'briana i told you they're not my friends ok hit it on foot yeah yeah i know how we're going to do use one of these tracking devices no don't not this time i'm already tracking this one Follow the researcher And she's there to investigate an infected subject The freak that was tagged in a nearby cave A cave? You want me to follow Armed neurogoons into a cave? Just stay close to her While you're in rage I can intercept her data Well Brian I'm still working on the info you want Don't ask Why the hell am I talking to you? O'Brien out Squad check in Allora li dobbiamo allontanare Tu fatti un giro lì Va dopo Tu invece Vuoi controllare quella zona caro Io c'ho la dolce a c'è Sì, can't see that Put your eyes open Just stay close to her Right open I never got that How was? Stage one, stage two, stage three thing What do you mean? I mean the virus is what it is, right? No, it's more complicated than that Now let me Okay I know I'm a grunt Before the freak show I was a biology major Just give me the gist Really Try me Okay We don't really know But blood tests show The current evidence suggests That the virus spreads through the lymph system Reproducing and attacking cells On a catastrophic scale Attacking More precisely Expressing a series of normally dormant What the hell is she doing? Cancer Look at him Look at all of them That look like cancer to you Maybe you're really bad No No But this is something far worse What do you mean? This virus is on a mission The freaks are what they are Because the virus wants them that way What do you say? I'm saying Jesus, what am I saying? Terrorism You're saying this was delivered? I don't know Hmm These are the three steps Is she done? Yeah, okay Time to get down to the dodge No 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 Allora queste qua Questo Ah ma non ne ho Ah non posso usarli con l'oro Ah C'è qualcuno che ho sentito questo? Perimeter alarm Ma che stai facendo compara? Ah Deve andare Via via Ciao Ah non sono grepato dai Via 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 Perfetto Quindi questa era una missione della storia Allora intanto iniziamo a tornare a Bounty Hunter Ok Allora meno la tentazione che se non li abbia torniamo No 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 Ryan come in I've got the data We're saving it now Thank you Drifter What the hell is she talking about Ryan About this virus Whatever the hell it is Or What it's doing I wanna know what the hell's going on O'Brien Why are they out here? What the fuck are you doing? O'Brien Ok I'll be in touch O'Brien out Oh boy this is gonna get a little fast Ok Hey look Someone's here C'è un morto ammazzato Ok Open the gate No Uno dei nostri Ah Molotov Oddio Ma quasi quasi ci sto andando Un po' di benzina Andiamo a fare benzina Andiamo a fare benzina Andiamo a bruciare quel cavolo di coso Andiamo a vedere Andiamo a vedere Is that ok? Ok Ok I'll top you off Pochi soldi Sure All right Benissimo Andiamo a bruciare sta roba E speriamo di trovare stavolta una tanica See you around Non trovo che è una cavolo di tanica Dove dovrebbe comunque esserci No? Sì Come fa? Me la devo Dovrei portare in giro Visto che non me la devo Cioè non Non posso Caricarla nella moto Ma magari è lì che non la vedo Magari non ho cercato bene anche se Ho scorrato abbastanza Nei camion non c'è Questa è roba Questa è roba Ah le pietroline che possono si battere nelle tavole Questa è trovata una moto Ah bellissima Non mi era mai capitata sta cosa Questa è un po' Non avevo preso il tempo Come non vi sa che mi avrebbe preso Ma non tant'è o da primo qua? Proprio per ricercare la tanica un attimo. Non è noto quindi c'è più gente. Non è l'unico, non è il punto. Non è l'unico. Non è l'unico, non è l'unico. Non è l'unico. Non è l'unico. Piazza, andiamo. Allora. Decisamente non c'è ancora la tanica. Qua dentro, ovviamente no. Non c'è niente che si trova. Dai. Nemmeno qua dentro. Oddio. Spero solo che non arrivi un'orda perché sono fottuto. Oh, cazzo. Lì c'è un'orda. Non è gigantesca, ma ce ne sono molti. Cioè, se io sbaglio adesso e non ho tolto tutti gli altoparlanti, sono fottuto. Però qui non arrivano, almeno questi. Non è 98, devo riuscire a perdere. Allora, qui sono nei cazzi. Devo controllare se ci sono altoparlanti, mi sa di no, erano solo due questa volta. Vabbè, c'è una cosa da fare, salvare e poi usare la tanica. Ah, sto sicuro che c'è qualche altro parlando, però... Allora, intanto... Vado a bruciare quella roba. Allora, vediamo quanti sono. C'è un'orda, ragazzi. È un'orda. Almeno per capire dove vanno la massa. Un attimo solo, metto una piccola pausa. Allora. Proviamoci. Il generatore farà rumore, immagino di sì. Sì, è bello che devo... Allora, qui andiamo. Ah, nessuno altro per là. No, nessuno. Questo ricorder... Volevo sentirlo perché vi dico che è successo. Allora, inventario? Inventorio? No, chiaro no. No, ma dai. Ma tipo... No? Le cose... Allora, me lo fa bene. Bene, bene. A questo punto io... Dovevo dormire, faccio passare l'orda e poi brucio quella roba qua. Cool. E direi di fare la vita adesso. E' stato a fare per una scuola fluta. Eh, i nemici sono vicini, perché non se ne vanno? Se io dovesse uscire sarebbe un grave problema. Ancora posso sapire uno più l'altro. L'occasione è giusto. Allora... 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 No, questa la vedo dritta. sono bloccato diamina se non esco mi ammazzano sicuro no sta meno non ho aperto non mi sento lo devo mettere subito non mi hanno aperto non l'ho mai fatto via le orde di notte stanno in giro per caccia la miseria sto troppo pesante ci dov'è ok la moto è qua sono delle amici dov'è andare a bruciare finalmente quel nido si è trovata la moto vero? ce l'ho la moto prima ovviamente non riuscivo a trovare una cavolo di bottiglia di birra vuota per fare una cavolo di molotov e andare a bruciare quello stupido nido ah si arrabbi tanto io sono arrivato non scappo tranquillo ma c'è qualcuno si però qui iniziano a stare un po' troppi allora io mi sbrigo mi saremo ancora di più facciamo un po' di casino ah ah ha capito ma no mentre corro aiuto allora rag 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 facciamo ancora ok ok non posso ripararla crepa caduta è rotto eh wow ah il primo colpo critico che sto sbloccato da poco sentite ovviamente sentite basta no ma tu per me hai fatto sbattare in aria oh dov'essi rimasto solo due facciamo a bozza oh c'è anche la tanica l'ho da tan ah no questa è una pega da botanica torniamo la nostra moto e via ah c'è un tizio che si è perso lì salutiamolo non l'ho proprio mancato proprio ah è semi-automatico dai e ad uscire bel fissile facciamo un viaggio rapido sta forza dai non 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 questo toglie il tabacco dalle sigarette per masticarselo è un po' schifo perché comunque non è questa bocca da masticare hey come si va non so posso aprire tutti i denti di video roba del genere ma comunque che sono nel gioco bene dobbiamo andare a cercare questo red riley oltretutto qui dove sono già stato quindi ho liberato questo ripulire gli stronzi madauder ah no per gli antibiotici ecco 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 qui come è combinata la strada oddio vabbè seguiamo la strada qui sto con la mappa dove sono mei dei caldamenti E' un po' più giallo. E' un po' più giallo. 5 6 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 11 12 12 13 13 15 13 ma sta, ti ho spentito, ma che cazzo di lupo è? lupo con problemi madonna, infatti non posso lupo con problemi, oddio, mi sono avanti sono più veloci di a minaccio, allora questo lo posso buttare ah li prendo semplicemente le orecchie come taglia, meglio andarsene perché questo è molto più bello anzi saldo pure no 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 non non no 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 bene ti sei fermato? ciao bello no no mi sa che non c'è nulla se già trovo tutto il sabore mi sa che è una bottiglia di vino, non c'è nulla, cavolo non c'è nulla 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 no no non c'è nulla ma c'è nulla non c'è nulla Tutto pieno, moto, ah, facciamo una moto, ok, c'è un giro. Continuiamo con le bloccato, non piste un altro. Che, 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 che. Abbiamo accettato su un posto, questo può anche essere un giro. l'altro non l'ho preso ah, mira un nerdo non posso dire che ho sbagliato non l'ho preso non non l'ho preso non l'ho preso non l'ho preso non l'ho preso che affredi Sì, questo è un po' di tobacco. E finalmente sei un po' di madre. come si riesce a stare? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, mi hanno sputtato però Mi piace Non provi a scurare Ok Bene, bene, bene Però mi avevano beccato Questa legge è inutile Ma cos'è? Sì, ma il casco... Tipo fare Cry New Dawn Questo del metto sono nel casco Quanto pare devo andare lì Ma no, non devo andare lì Ti vedi? Non hai, non hai Alla favore Questa legge è che non mi ha avuto ah, non c'è problema, l'alimenti quello c'è un po' rotto per quanto lo lupiamo ecco la munizione può tornare ma quello proprio non è non ho capito un po' eh, qua dentro ma non è non ci si non andrà nemmeno non ci si va non ci si 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 è bloccato Ohhhh 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 Is this all about that bitch got herself killed back at Iron Mike's? Ohhhh We gotta stop moving sometime This will do Screw you Move this Move Move Hmm Oh 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 3-2-3 Headshot Certo Come ti progettare con la loot Vediamo se Tanto Band Ok Ok È finita abbastanza velocemente questa Ah Finalmente un'altra bottiglia di birra Nel assunto Mh Riempiamo al massimo Riempiamo la pistola Riempiamo la pistola Riempiamo la pistola Ciao ciao Dov'è la mia moto? Dov'è la mia moto? Dov'è la mia moto qua? Benissimo No No C'è proprio che rubano un sacco di moto Allora qui dentro C'è qualcosa di viene Non c'erano due corpi? Siamo spariti erano dalla mano Ok Un baston di ciecato L'immagine Quindi nulla di nulla Non c'è Cosa? La porta proprio bloccata Allora la moto Vediamo che c'è qui Il departe metallica Ah Non piace Sto navigando Torniamo al campo Ok quella è ancora lì però non l'hanno rimossa prima devo andare ad ascoltare una canzone quindi buttaci una canzone nuova oh c'è l'armonica adesso quindi stavolta è duetto allora sei andato hai rubato la scena un'altra canzone ancora che accordi sono compare vabbè ciao ciao fatemi andare vi prego devo fare le missioni what's going on what's going on ok good good one ok forse il mio cane vuole dell'acqua gliela devo dare se no sclera forse il mio cane vuole dell'acqua gliela devo dare se no sclera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti bene 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 andare un po più veloce ne ho fatto troppo poco ancora non ho messo stupendo di nulla ok di nuovo qui allora andiamo a fare questo ah no devo dare del cibo se almeno aumento dai ma dov'è allora stardo oh mio poveri lupetti ma quanto ci vuole andiamo a mandato i crediti i camioncini andiamo a missionarci andiamo a Deacon la protege è qui vediamo questa che vuole ehi ehi ricky ehi razzaglia lindsay ha alcuni ragazzi che era vicino ehi ricky mi sa che devo fare più taglia la 27% guarda guarda quella del fratello sono già al massimo vedendo quasi finito infatti mi sa che non ha 41 ma non era 82 non ci sto capendo nulla ah no è mio fratello che è 88 ancora non è finita forse forse finirà più avanti in ogni caso dove dovrei andare perché mi sa che mi tocca uscire dal campamento così mi faranno una chiamata almeno se c'è qualche lavoro disponibile eh no tanto ora esco e me lo daranno sicuramente bene infatti mi dice che è andata da qualche parte no? ah si quindi parla di Iron Mike per la cava del un po' di un lato vabbè andiamo ci potrei andare a piedi ora prendiamo a prendere la macchina per fare 2 metri anzi 20 metri in questo caso ho la moto vabbè c'è chi lo fa certo ma loro per questo sarà tale però un cazzo almeno di un po' che un po' non ma di un po' parla Scusa ma dovevo mostrargli io cosa fargli vedere, dobbiamo arrivare? I'm not in my first duty anyway this morning. I gotta see if any freaks are stuck in the muck up that way- When's the last time you went up there? In a few years I guess. When I was a boy we used to live in that damn cave. An old man sorta fancied himself a geologist. Sounds like we got a couple. Freaks stuck in the mud I mean. Yeah, sounds like. Here, let me take a break. Alright, guess I can let you do that. Perchè non mi fa l'attaccia? Siamo al colpello dai Ah ma stanno con le trappe che non ce l'ho scocato Ma vabbè Ma non è una trappone incastrati Ma hai domani parlare come le crei fatti Lava flosso sordano sull'interno Ma i coi fri sono diventati come un'immagrazione Ma hai i grandi crei che sono riusciti a tutti i turisti Come Metolius all'interno E c'è da più di tutto Riddellati all'interno non si è mai tolto il calpellino come dicono dall'inizio del gioco sembra tutto un altro lupo sul ferretto ma dai c'è un'orda ma sono tutti incastrati che cosa? non è riuscito a stare perchè dobbiamo seguire un'orda? stai insieme cosa stiamo facendo? questo non sembra così smart, anche per un drifter guarda, guarda, ricordi mi ricordi di dire come i turisti avevano vederlo da Californa in giro e riuscire a livello 97 sull'I-5 si, eserizionano un paio di gruppi si, eserizionano un paio di gruppi si, nel giulio i ragazzi svevano quasi come i tessi ma non sei un'altro questi ragazzi, i grandi gruppi, i quelli che si chiamano credo che sono il motivo che non possiamo capire cosa vuoi? pensi a cosa, sono qui sono in giro per un anno ricchi, schizzo, alcuni altri Quanti freaks credi che ho matato? Un pochino Un pochino? Si, ma i loro numeri non vengono Sono questi fiori ogni mattina c'è una strada di strada di Saniam mille di fiori che vengono nel Valle di Lost Lake nel nord della Cascade E credi che vengono da Californa? Sono sempre fermato nessuno è venuto sul centro del Pass di Centium Non è fermato con le Hordi Le freaks sono la ragazza di che è fermato Il punto che voglio fare è che le Hordi vengono in ogni mattina non è una cosa che possiamo fare per stoppare Quindi c'è un problema con le Hordi quando dobbiamo muoversi che fare cosa non lo so Ho perduto più di un pochino che cercano di farlo Sì, lo so, ero ero e ogni Horda che vengono resta un pochino stragglersi o si riuscita e si scatta e proprio così è un pochino di un pochino e un pochino di un pochino Infatti quello che non si sa è da dove vengono questi cavoli di zombie che è successo? Non lo so, non lo so non lo so, non lo so, non lo so Non lo so, non lo so non lo so, non lo so che vengono che le Hordi magari possiamo fare un pochino e ridurre le numeri e rendere più sicuro e più sicuro e più di più di farmlandi e l'irrugazione e l'irrugazione sì ok, quindi come faremo questo? non lo so, non lo so non lo so, non lo so non lo so non lo so non lo so un pochino questo è il modo che vengono e l'irrugazione si si quindi cosa pensi che ci siamo? sì sì rispondiamo in un'altra in un'altra in un'altra in un'altra cosa 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 non lo so 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 o questo è il sì ok 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 Siamo passati in un paio di grotte, effettivamente, mi chiedevo, ma qui bisogna far esplodere tutto, in Granada non basta. Mi chiedevo, quando c'è un po' di grotte che ti rende un'esprete sui fredi? Ti spendi un'esprete tempo solo seguendo loro, vedendo ciò che fanno succedere? Non c'è un'esprete. E come sai tutto questo? C'è quello che una squadra dovrebbe fare, dove dormono? Un po' di anni fa, ero sul nord del Belknap Crater, quando un chopper fuori. Un chopper? Cosa di più? No, just listen to me, it was a black chopper. One of those Nero choppers that used to fly all over the goddamn place when the shit was going down. And you saw one, still flying. I followed him, I stole one of their radios. I've been trying to track him down, see if they have a base around here, supplies. Shit, I mean, see if the feds are still alive, you know what I'm saying? They're out here doing field work of some kind on the freaks, they're studying. Sì, hanno i risultati per fare questo. Sono qui starvi, combattendo per rimanere a vivere. Ho seguito fino alla caverna grotto. Tu conosci i quelli? Sì. Avevano sensori di motion, misurando quanti freaks usavano la caverna durante il giorno, e, uh, Mike, era mille. Si è vero. Sì. Si chiamavano i freddi, sui di Crater Lake, sui di Smyth Rock, tutti usavano queste caverne tubi di lava per hibernare. Quindi, se ci riusciamo i quei caverne, magari abbiamo qualche meno da fare. Ok. Hey, questa idea di te ha un po' merito, ma... un lavoro come questo, sarà un po' merito di TNT. Si chiedi che hai chiesto aiutare a rendere la caverna giusta, questo è il modo che facciamo. Ok. Ok, guarda. Ci sono alcune cose che devo fare. Ok? Ma ti metti a me a la città, in qualche minuto. non ci sono alcune cose. vedo dove possiamo trovare alcune cose. Trovare. Wow. Oh. Oh. ... 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